Sì, è questo! ...andere... ...fafferci al 13... ...e... 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 ...errore per lui adesso, proprio in... ...di... ...redeering... ...e... 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 In questo momento Fabiano Bettega taglia il traguardo e Pogar è due secondi dietro. Spilthorfer, il numero 2 del world ranking list, il numero 1 oggi, Niccolino Spilthorfer con il numero 8, Adolfi. Ha già la sua, ma che non riesce a portarla allo stesso tempo di Ossileia di New, second pass is time for Iris Pecorari, 54 minuti. Fabiano Bettega is coming, he's the new leader, abbiamo il nuovo leader della classifica ed è Fabiano Bettega, Italia, Pavione, che arriva al traguardo, quasi travolge la telecamera. Sono molto contenta della mia gara perché ho dato tutto quello che avevo, l'anno scorso ero riuscita ad arrivare terza in questa prova, però quest'anno la forma non era delle migliori il mese scorso ai mondiali, a differenza dell'anno scorso, però sono riuscita fortunatamente a ritirarmi su in questo mese di preparazione. La prima parte era molto tecnica e verso la parte finale bisognava spingere con tutto quello che rimaneva. Domani è un po' lunga per le mie caratteristiche, io vado bene di solito sull'ora e domani sarà quasi due secondo i miei calcoli. Soddisfazione proprio era immensa, non pensavo però sapevo che potevamo giocarci le nostre carte. Decisamente è tutto grazie al tifo di casa che sentivo veramente molto vivo e ho dato il tutto, proprio quello che anche non avevo. Molto bello, ho visto che ero proprio confidente, conoscevo bene il terreno grazie a tutte le gare scorse che abbiamo fatto negli ultimi anni e secondo me è stata la carta vincente. With a fantastic, astonishing 47 minutes and 44 seconds. Niccoli Nespitto with 2 minutes and 47 seconds.